Polemica a distanza e non è la prima, fra il Presidente della Giunta regionale Mario Oliverio e il Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto a generare l'ennesima discussione fra i due i fondi per 90 milioni di euro assegnati al Comune di Cosenza per il recupero del centro storico. Occhiuto ha definito il finanziamento un contentino rivolto solo a strutture pubbliche, mentre la maggior parte dei problemi riguarderebbe i privati. Oliverio invece la pensa diversamente. Io ho annunciato una decisione assunta dalla cabina di regia della quale faccio parte, della cabina di regia nazionale, che ha definito il riparto tra i ministeri, al MIBAC sono stati assegnati 750 milioni di euro e di questi 750 milioni di euro 360 sono stati destinati ai centri storici di quattro città del Mezzogiorno, Napoli, Taranto, Palermo, e Cosenza. Cosenza abbiamo lavorato perché entrasse in questo progetto importante per il sud, perché Cosenza è alla stregua di Napoli, di Palermo, di grandi città del paese, non solo del sud. Credo che questo deve essere un risultato che va salutato positivamente. Non vedo questa ostinazione del sindaco di Cosenza e del vice sindaco l'onorevole Santelli a negare l'evidenza e a parlare di strumentalizzazioni elettorali.